cari amici questo è il mio primo personal computer è un apple 2c fu presentato dalla apple nel 1984 ed io lo comprei nel 1985 mi è servito molto mi ha aiutato nel mio lavoro in maniera particolare certamente non è da paragonarlo ai computer di ultima generazione per quegli anni era uno dei più piccoli da poter tenere su una scrivania funzionava con il sistema dos il gli articoli di negozio venivano caricati su questi flop ed una volta inseriti si mandava avanti come dicevo con il sistema dos non c'era il mouse il mouse ancora non era non era a disposizione di questi computer quindi attraverso questi tasti con la combinazione numerica molto spesso si mandava avanti diciamo il computer era molto lento certamente però il suo lavoro lo faceva poco dopo ho capito che per velocizzare un pochettino il lavoro era necessario comprare un hard disk questo era l'hard disk sul quale ho caricato tutti gli articoli del mio negozio e quindi ho velocizzato un pochettino il lavoro questa era la stampante è una stampante come vedete la carta è buccherellata e quindi andava avanti per trascinamento eccolo qua il mio personal computer è funzionante ancora di tanto in tanto lo accendo per 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 mantenerlo in funzione anche se spesso dimentico i vari passaggi ma è funzionante l'ho conservato come ricordo di quegli anni e quindi anche lui ormai fa parte del mio museo ciao